Vedete che non ha messo le info, c'è scritto Broly e Sin Sharon, fine. Vedete? Vedete? Non c'è nessun altro, vedete? Non c'è nessun altro boss, quindi, secondo me, o batti Broly, poi inizia Sin, poi batti Broly Tech, poi inizia Omega STR, poi batti Broly STR e inizia Omega e poi arrivi a Broly... Non lo so come funziona, non lo so come funziona, non l'ho proprio capita sta roba, quindi, calma e sangue freddo, vediamo un attimino, mamma mia che primo turno che mi è iniziato, ci sta, vediamo subito, vediamo, vediamo come funziona, oh, io ho buildato il miglior team possibile, Che se funziona però, che devo prima battere tutto Broly, è una cavolata battere Omega, poi, perché non trasformerò neanche mai loro due, non li trasformo, non mi serve trasformarli Io lo tengo lì, bello, tranquillo, a farsi i cavoli suoi, che si busta all'infinito, quando abbiamo battuto Omega, noi iniziamo a trasformarli, loro avranno talmente tanta def e talmente tanto attacco Che da trasformarli, sciolgono Omega, lo guardano male e li fanno scine Vediamo, voglio vedere come funziona, se ora battiamo, se ora battiamo Broly e inizia Omega è un problema Lo dico subito, è un problema Non mi scondo che sia un bel problema, sinceramente Perché lì, eh, lì diventa un casino, eh Poi comunque arriviamo con un Vegito Tech che a girare è comunque full boostato e che è abbastanza adepto Quindi anche lì è ridicolo, diventa ridicolo batterlo sta roba, diventa ridicolo Ehm no, conto la def prima Meglio la def sua Meglio la def sua, non me ne frega niente Loro devono fare Perma 18 Devono avere la def sempre boostata Eh vai a quel paese, potevi prendere un colpo Vediamo se inizia Sin Attenzione Porco boia, orco boia, scappiamo, 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 scappiamo Dobbiamo scappare, dobbiamo scappare, dobbiamo scappare, dobbiamo scappare No, 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 dobbiamo scappare, dobbiamo scappare Questo è l'inferno, questo è l'inferno, questo è l'inferno È l'inferno, è l'inferno, io non l'avevo predetta così oh mio dio oh mio dio no 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 questo è l'inferno questo è l'inferno no è un inferno è un inferno ditemi che non è vero ditemi che non è vero questo robot al secondo turno one shot al secondo turno di quando arrivi a Broly e quindi a Omega one shot madonna con Goku tieni sin silato con Goku bisogna tenere sin silato o stannato con qualcun altro ma non è che importa più di tanto lo stanno pazzoidi pazzoidi veramente le special su Trunks e Vegeta special su Trunks e Vegeta grazie madonna santa madonna santa lo scopri da questa special quanto prendiamo no non si è regolato non si è regolato assolutamente no ok va bene oh mamma mia è un pazzo oh mamma mia è un pazzo è un pazzo è un pazzo è un pazzo sta roba è da pazzi ragazzi sta roba è veramente difficile porca Eva perché blocca anche l'evasione quindi non è che puoi sfruttare la cosa cosa è successo non ha bloccato l'evasione vuol dire che quando attacca Omega puoi evadere quando attacca Broly non puoi evadere Antonio Xeno grazie mille per i sei mesi di sub come butta qua siamo contro l'evento più difficile di tutto il gioco veramente blocca l'evasione Broly credo mentre puoi evadere Omega mantiene le regoline di come funzionano i boss ci sta quindi vuol dire che al secondo turno noi possiamo essere one shotati da Omega quindi da Broly quando arriviamo Broly Omega dobbiamo uccidere prima Omega assolutamente prima Omega perché se no ci può one shotare e sto Robo ci fa gli away oh mio Dio è un pazzo è un pazzo sto Robo fa gli away ragazzi sto Robo fa gli away fa gli away oh mio Dio santo oh mio Dio santo calma per ora continuiamo così noi ammazziamo si si ammazziamolo ammazziamolo via 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 dalle scatole via 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 shot deve morire deve morire fine deve assolutamente morire a me frega niente deve morire Broly deve morire Broly deve morire fine Broly è andato ok hanno meno vita ah beh non è che me ne frega non è che me ne interessa più di tanto perché tanto al momento via 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 speciali omegas son morto ok nooo mannaggia mannaggia tutto porca eva quel robot lo giro ora oh mio dio santo buono che dannini non posso metterli a girare ti ricordo che c'è un piccolo problema al momento non hanno più la cosa più turni prendiamo a uccidere più loro si boostano cacchio me ne frega calma in effetti è meglio battere omega prima qua perchè così non ci può bloccare la roba o 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 saresti così tanto gentile da non fare special grazie o 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 lo lo sbaragli quindi ok ma farlo così è cattivissimo farlo così è cattivissimo ragazzi calma calma devo uccidere o broli deve morire broli broli deve andarsene broli deve morire mi dispiace broli scompari su sto schermo io non voglio più vedere broli per ora calma dopo dobbiamo pensare a uccidere prima omega e poi broli però li resistiamo omega no omega omega for solo se abbiamo solo se abbiamo coso solo se abbiamo come si chiama Lui a girare Facciamo questo non ce ne frega niente della guardia abbiamo i crit ma lo voglio ammazzare adesso in realtà no non voglio ammazzare adesso non voglio ammazzarlo adesso io non è tempo di ammazzarlo è sbagliato è sbagliato non devo ammazzarlo ancora non voglio i crit deve ancora gustarsi tante volte lui devo arrivare a fine run con lui in cavo latissimi no ottimo prescindere non lo carichiamo non lo carichiamo non lo carichiamo non devo fargli troppo devo prendere ancora un attimo è perché qua abbiamo poco vegeta god che girano non va affatto bene Prima poi calma perché non lo voglio uccidere? perché ho i turni messi a ca? quello è uno dei motivi quello è uno dei motivi se deve boost a lui il più possibile ancora un turnino sarebbe bello di boost poi devo far boostare i god che me li ha bloccati a random bello omega buono ok calma non bloccare bravo ok torniamo alla nostra run torniamo alla nostra run hanno perso un po' di turni di stack è quello brutto ci fa sentire per dopo più che altro ok andiamo stiamo al prossimo turno così vegeto tira anche un po' di special anche lui quello che ci serve al momento serve un vegito incavolato e il vegito deve riuscire deve riuscire a fare l'impossibile e ho paura per quella roba impossibile se mi gestisco bene Gohan e ce l'ho per tankare Broly eh Broly omega secondo turno special forse resistiamo medium difficile madonna calma 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 pazzoide bella 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 non lo cretate che così il vegito lo ammazza ho bisogno che il vegito faccia ancora delle robe ci serve per dopo bello 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 ci pensa il vegito buono 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 ok blocca l'abbiamo notato ora blocca l'evasione sugli attacchi di Broly non la blocca sugli attacchi di omega giustamente vabbè tanto si è bustato ma non importa che mi significa cioè va bene calma ok non ho gone fisico in turno per la special di omega quindi farò la cosa più impensabile ma che è la più importante devo farlo ciao omega veniamo te eh sì siamo venuti a prendere la tua testa la tua testa siamo venuti a prendere perché non posso prendere quella di Broly ora Broly ora non me ne frega niente quindi siamo qua per la tua a testa omega solo la tua siamo qua per la tua devo ucciderti prima del prossimo turno e intanto devo pensare a Broly quindi se Broly vuoi essere gentile gli attacchi su Trunks e Vegeta sono accettatissimi eh ma solo su Trunks e Vegeta grazie calma grazie mille grazie mille per il raidino e come andate Fate danno Fate roba Fate roba Fate roba Fate roba Special Belle belle Dopo abbiamo Rose Zamasu No vabbè È inabbattibile così dai Ok Ok calma Calma Assolutamente questo Questo Le orb No ma non sopravvivo Non sopravvivo Lì c'è quella special one shot Non sopravvivo Uccidere Broly ora Fare dei danni su Broly Mi è totalmente inutile Perché Qua mi fa la OE ora Quindi muoio Muoio Cioè la OE Mi fa la special di Omega Muoio ora Al momento Muoio È il secondo turno Questo devo È il secondo turno Di Omega Ora arriva la special Non uscite malissimo Le orb Non ci scaviamo quello È un problemone Proprio È un problema E basta È un problema È un problema Proprio Yes 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 Vegito Vegito Quattro special Quattro Quattro special Quattro Quattro special Quattro special Quattro free Let's go Blue Nox 8997 Grazie mille Per i tre mesi di sub Grazie mille Grazie mille Un po' di fortuna Speriamo Questa non ci voleva Questa non ci voleva Ma dobbiamo tenere GodQ Comunque Così lo teniamo In faccia Omega GodQ lo teniamo Non è un problema Basta non ammazzare mai I Broly Prima GodQ è sempre attivo GodQ ce lo portiamo Alla prossima run Non ci voleva Questo Ci voleva La seconda special Pure Pure Una prima Una dopo Ah mamma mia Una prima E una dopo Crittate per favore Fate anche una 12 Crittate anche quel Buono Una 12 Una 12 Crittala Vegeta è nelle tue mani Questa run Vegeta è nelle tue mani Questa run Oh mamma mia 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 Vegeta ce la puoi fare 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 Vegeta per favore Basta che lo ammazzi Ammazzalo 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 Grazie a tutti. Ok. Madonna. 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 Ok. Si fa il turno speciale che non ce fa la speciale, per favore Broly. Sono sopravvissuto al turno di prima, fammi sopravvivere ancora che poi ce la faccio a batterti. Ok. Drip. Drip. Drip.